Il vertice NATO di Madrid ha portato ad uno storico e delicato accordo la rinuncia della Turchia al veto sull'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO. Sono felice di annunciare che abbiamo un accordo che apre la strada all'adesione di Finlandia e Svezia, ha detto il numero uno della NATO, Jens Stoltenberg. Turchia, Finlandia e Svezia hanno firmato un memorandum che affronta le preoccupazioni della Turchia, comprese le esportazioni di armi e la lotta al terrorismo. La Turchia ha infatti ottenuto che le due democrazie nordiche modifichino le loro leggi togliendo l'embargo sull'invio di armi ad Ankara, permettendo l'estradizione di attivisti e politici considerati terroristi da Erdogan e impegnandosi a non sostenere associazioni come il PKK ma anche gli EPJ, i kurdi che hanno combattuto contro l'ISIS in Siria. Stoltenberg ha assicurato che verrà rispettata la Convenzione Europea sull'estradizione e lo Stato di diritto. Secondo le milizie e gli EPJ invece, l'accordo è stato raggiunto al prezzo di un via libera per un nuovo massacro e dell'occupazione del posto che ha difeso il mondo dall'ISIS. Grazie. Grazie.